Siamo arrivati al momento dei supporti visivi. Stiamo seguendo il nostro quadrato ruotato. Abbiamo trattato l'audience, abbiamo parlato del soggetto e ora siamo ai supporti visivi. Supporti visivi è quell'insieme di immagini, che siano al computer, proiettate o altrimenti, che ci aiutano a comunicare all'audience. Oggi sicuramente non siamo a corto di supporti visivi, anzi siamo bombardati soprattutto nelle presentazioni di lavoro. Penso che questa immagine, questa installazione, il Pierre Vivant, questo nello specifico dovrebbe essere a Canary Wharf, ma ce n'è più di una in giro per il mondo, rappresenti bene il concetto e il problema della sovracomunicazione. Un semaforo, ordine, chiarezza e un messaggio. Tanti semafori, troppi semafori e non c'è più un messaggio, ma in realtà si ottiene il contrario.